Mozione di sfiducia presentata dal consigliere Provenza. Ne parliamo con la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, la quale addurrà i motivi per cui questa mozione è fuori luogo. I debiti sono stati ripianati col lavoro di questa amministrazione. Voglio ringraziare l'assessore Catarozzo in primis e poi anche gli uffici perché se non ci fosse stata l'assessore Catarozzo sicuramente noi avremmo ancora da affrontare. Io sono rimasta un po' perplessa perché questo atto non è un atto di consiglio comunale. Si può sfiduciare il sindaco ma non si sfiduce l'assessore, l'assessore lo sfiduce il sindaco. Quindi già questo denota soprattutto poi firmato da chi era il candidato al sindaco che non conosce gli atti, che non conosce come ci si comporta in consiglio comunale. Quindi voglio dire già di per sé si parte male. Io penso che l'opposizione debba finire di fare atti che tendono a rallentare, a denigrare. La campagna elettorale è finita. Noi abbiamo davanti la questione del PNRR. La città deve crescere, deve andare avanti, dobbiamo intercettare fondi, dobbiamo lavorare. Allora facessero delle proposte, l'ho detto, noi siamo disponibili a lavorare insieme. Questa è la vera opposizione. Rimane opposizione. Però voglio dire dobbiamo lavorare in questo senso per far crescere la città. Noi siamo disponibili. Se loro vogliono continuare in questo senso, denigrando e pensando di stare in campagna elettorale, e vabbè, noi andremo avanti comunque, lo dobbiamo alla città. E poi voglio dire, quelli sono atti... Noi li porteremo in consiglio comunale, come tu sai, mercoledì ci sarà in consiglio comunale sulla presa d'atto della fuoriuscita dal riequilibrio. Quindi poi chiariremo anche questi signori che interpellano ad letteram le cose scritte. È vero, noi abbiamo usufruito, siamo usciti dal riequilibrio, che è un atto importantissimo. Quando io dico riusciamo da un tunnel, è la verità. Perché quello non è la fine, l'arrivo. Quello è l'inizio. Una volta che ti sei dotto i debiti, e ripeto, 23 milioni di euro di disavanzo e 17 milioni di debiti fuori bilancio, ora bisogna partire. Ho dato già disposizione... Del resto, quando facemmo la conferenza stampa, lo dissi anche che la Corte dei Conti ci avrebbe controllato sulla vendita dei beni, su queste cose. Io ho dato già mandato agli uffici con le direttive che devono fare. Tutte queste cose abbiamo già degli acquirenti per due beni. Andremo avanti per il controllo. Questo è quello che dobbiamo fare ora. Dobbiamo ora iniziare a costruire per questa città. Toltici i debiti. E poi voglio ripetere, e lo ripeto di nuovo, perché qualcuno sempre candidato al sindaco, che tra l'altro è del mestiere, dovrebbe essere del mestiere, ha potuto leggere da quella relazione che quei fondi, quei 31 milioni, erano a fondo perduto. Perché io ve lo ricordo. Questo signore dice che noi ci siamo fatti un debito per pagare un debito. La Corte dei Conti gliel'ha detto, quelli sono a fondo perduto. Gli altri, invece, fondi che avevano chiesto i commissari dal fondo di notazione, quelli erano dei fondi che lo Stato ci ha dato. Loro hanno fatto una cosa complessiva, ma lo ritengo. Quei soldi dei 31 milioni non ci sono serviti per ripianare i debiti. E' chiaro e lo dimostriamo. Quando noi chiudiamo il rendiconto dicembre 2020, noi abbiamo ricevuto solo una tranche di quei soldi. 15 milioni. Bene, chiudiamo con un avanzo di 9 e i 6 milioni dei 15 li abbiamo messi in un fondo per affrontare i debiti fuori bilancio. Quindi quei soldi non ci sono serviti per pagare i debiti. Certo, sicuramente sono dei soldi che la Corte dei Conti vede che abbiamo nelle casse. Noi abbiamo una cassa molto solida. E quindi dice, aveva un po' di dubbi, probabilmente, voglio dire, ti riconosce il fatto, il lavoro che è fatto. Non poteva non liberarci dal riequilibrio. I debiti sono stati ripianati. E voglio dire, qua non ci stava una lista dei contenziosi. Non si sapeva niente dei debiti fuori bilancio. Se fossimo stati noi, probabilmente avremmo fatto un riequilibrio. Avremmo detto che i debiti che tenevamo erano molto di più dei 23 milioni. Questo è il dato di fatto, che poi ci siamo trovati dei debiti fuori bilancio, non fatti dall'amministrazione francese, ma dall'amministrazione precedente. Quindi, finitela di fare un tipo di opposizione del genere. Se vogliamo lavorare per questa città, noi ci siamo. Se non vogliamo lavorare, noi andiamo avanti. Abbiamo un dovere verso la città.